Non è stato accoltellato semplicemente Marcello Toscano, è stato ammazzato un docente, è stata accoltellata la cittadinanza di Melito, questo è quello che deve trasparire. Sono stati accoltellati i ragazzi, su un termine molto molto forte, perché quando uno non si sente sicuro manco in una scuola vuol dire che non c'è sicurezza e se non c'è sicurezza non c'è tranquillità. La comunità è ancora sconvolta e non potrebbe essere altrimenti. Quando il teatro di un omicidio diventa il cortile di una scuola diventa realmente difficile riprendersi. C'è tanta paura, c'è tanta paura. Quando non si sanno le cause di un omicidio si fanno centinaia e centinaia di domande e di considerazioni. Qualcuno può pensare che ci siano degli squilibrati all'interno delle scuole, quindi diventa molto pericoloso. Aspettiamo di conoscere le ragioni che si trovano dietro questo omicidio. Nessun omicidio ha delle ragioni, però potrebbe aiutare quantomeno ad una ripresa di quelle che sono le attività didattiche perché è inutile nasconderlo, questi ragazzi dovranno tornare a breve nelle loro classi e sarà veramente difficile. Non è stato accoltellato semplicemente Marcello Toscano, è stato ammazzato un docente. L'ho conosciuto, sono stato assessorato alla cultura in questo comune, quindi ho un rapporto continuo con le scuole. Lo vedevo abbastanza addentrato in quello che era il contesto. Poi in altri tipi di particolari preferiscono spingermi perché aspetto che la procura faccia luce sulla totalità di quello che c'è stato dietro questo efferato omicidio. È stata accoltellata la cittadinanza di Melito, questo è quello che deve trasparire. Sono stati accoltellati i ragazzi, uso un termine molto molto forte, perché quando uno non si sente sicuro manco in una scuola vuol dire che non c'è sicurezza e se non c'è sicurezza non c'è tranquillità. C'è una presunzione di poter agire incontrastati ed è la cosa più grave. Se si pensa che un omicidio si possa compiere all'interno del cortile di una scuola vuol dire che si ha un modo di agire e di pensare completamente libero, un modo di agire e di pensare che va nell'illegalità ed è una cosa che dobbiamo contrastare in tutti i modi. C'erano state delle avvisaglie che io ho segnalato con degli episodi abbastanza certamente gravi all'interno della medesima scuola, ma non soltanto. Noi possiamo lanciare tutti i segnali che vogliamo, possiamo tenere le scuole aperte anche di pomeriggio come stiamo facendo, utilizzando le palestre per il recupero di ragazzi a rischio, ma se non avviene simultaneamente un'azione forte, repressiva e di contrasto alla micro e macro criminalità difficilmente in futuro non ci troveremo a commentare fatti del genere. Speriamo che i fatti accaduti e l'attenzione mediatica che è stata rivolta alla città di Milito possano servire per attirare un'attenzione da parte del governo e del governo che si sta formando in questi giorni per far sì che possano essere presi dei provvedimenti seri e possano essere inviate un maggior numero di forze dell'ordine perché purtroppo con quelle che abbiamo oggi a disposizione tra comando di polizia municipale e tenenza dei carabinieri non si riesce a dare oltre quello che è l'ordinario nonostante il gran lavoro che svolgono i militari e anche gli stessi agenti del mio comando. Ho già praticamente insieme con l'assessorato alla cultura predisposto a un'iniziativa che spero possa trovare la partecipazione di tanti colleghi della zona e di grosse personalità che coinvolgerà tutti i ragazzi di tutte le nostre scuole in una sorta di marcia che terminerà nel campo sportivo che è proprio adiacente alla scuola Marino-Guarano dove voglio coinvolgere i ragazzi di tutte le scuole di ogni ordine e grado perché Melito è qualcosa di diverso rispetto a quella che è apparsa su tutti gli organi di stampa in questi giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.